musica ciao a tutti sono Spiegalantotto e benvenuti in una nuova puntata di minecraft pvp che sta al posto di un altro gioco che sarebbe left for dead aspettate che abbassa un po' il volume però non sono riuscito a registrarla quindi per problemi del gioco proprio del gioco che crashava dopo un pochino anche quando non registravo proprio da solo è un problema abbastanza diffuso e speriamo che si possa risolvere adesso cerco però nel frattempo non ho tempo per non abbastanza tempo per scaricarlo da steam per provare a disinstallarlo e riscaricarlo da steam quindi lo farò un altro giorno nel frattempo vi tenete questa puntatozza di minecraft pvp scusatemi ancora anche se in realtà non sarei io a dovervi delle scuse bensì bastardone della valve ma lasciamo stare lasciamo stare ok cos'ha infiniti 1 non me ne faccio niente di infiniti 1 ora possiamo riambentare il volume era 37 grazie per aver fatto il lavoro a quest'ora si si bravo grazie tante non so se arriverò a fare una puntata di 15 minuti si 15 minuti perché non ho molto tempo ho sprecato del tempo per registrare un'altra cosa che però non mi è piaciuta non so ancora se caricherò quella sarebbe una puntata di happy wheels ma non mi ispirava particolarmente a parte che happy wheels non mi piace perciò non lo farei neanche con piacere la registrazione sinceramente e poi non lo so non mi piace neanche come l'ora di strata brutti figli di buona donna mi serve acqua c'era qualcosa no ah ok perfetto no c'era una uva dove che squadra sono? blu quindi tu devi morire tutti voi dovete morire l'ho buttato giù stai scherzando? cosi te impari dove spira particolarmente questo tappeto? non so perchè sono un coglione come al solito il vostro spiga 98 vi fa vedere quanto spiga 98 vi fa vedere spiga basta vi fa vedere quanto è bravo ci rifacciamo l'armaturina ina ina piccolina 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 uno ce la faccio due tre e quattro mi ci devo abituare che questa cosa è che metto gli oggetti nelle crafting table in modo automatico strisciando questo questo perchè sono abituato a giocare a minecraft moddato e di solito gioco a modpack tipo direwolf 20 direwolf 20 nella realtà oppure gli ultimate varie che sono all'1 4 7 oppure la 1 5 2 in questa versione non c'è ancora la lo spalmamento di oggetti dove sto andando? devo andare nel teletrasporto nel telepippo aglio ci prendiamo materiali da costruzione ecco ci costruiamo del materiale da costruzione costruzione di materiale ok ok e ora spacchiamo le no apriamo i i pertugi i deretani gli ani spacchiamo i puli lo sapete che con me vinciamo sempre uuuh in realtà non sono poi così male in minecraft pvp cioè non sarà il massimo però in questa modalità di minecraft pvp che sto giocando molto spesso sono un cretino perchè mi è passato un tipo avanti ha la corazza in diamante non so se mi conviene ok vai sono un omertoso sono un merdoso non so perchè mai credo che qui dentro ci siano diamanti diamanti per tutti sono nella base di micro spaglio tu muori bastardo ma che cazzo ma io con una spadina di ferro non faccio niente a nessuno lì con una spadina mi ammazza ti muovi a prendere questa oddio che laggata che what the fuck è successo? ok allora cosa mi sono dimenticato? la chestplate non so voi ma a me aspetta praticamente una settimana di vacanze sono allato oggi a scuola vado domani a scuola e poi mi aspetta mercoledì giovedì venerdì sabato e domenica di vacanze vabbè ma forse dovrei dire oggi sono a casa perchè se non sbaglio la caricherò domani quindi cioè per voi è martedì si oggi per me è io sto registrando il giorno prima non non può essere già finita la partita ah ok hanno messo le le what the fuck abbiamo una fire aspect che ci potrebbe tornare utile ci tornerà utile sicuramente questa è una spadona che spacca i culi come si suol dire si no non mi serve infiniti più che altro mi serve un arco più potente un arco spaccaculi come è il mio solito dun 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 su ins agony ok LO scusate un attimo eccomi qua sono morto e c'è stata un'altra intrusione ok oggi molte intrusioni sono le 3 è un impegno per cui devo uscire alle 3.20 circa e devo muovermi sono ok se oggi sono fortunati mi dicono dalla oegia ma fa più don't be afraid chi ha vinto per curiosità abbiamo vinto noi naturalmente e per curiosità qua dentro che cazzo c'era così per sapere per gradire ma vaffanculo diventiamo viola da partirà tra 20 secondi oddio questa nuova paola conosco no non la conosco è fighissima però che bella bellissima ma è bellissimissima sta iniziando sta iniziando 3 2 1 vetro non me ne faccio niente di questo vetro però vorrei roma 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 ma che cazzo quindi mi devo piazzare lana rossa e lana gialla lana rossa lana gialla ok basta ma non ti vergogni una pausa che segue ma non ti vergogni in pratica c'è una serie televisiva che si chiama quelli che ha la rai che parla nei giorni di partita dai risultati delle partite indirette e varie in più c'è una ragazza che adesso è della mediaset se non sbaglio ma prima era della rai che è molto brava a imitare è un'imitatrice si chiama Virginia Raffaele tra l'altro è anche buona comunque imitava quella di real time quella ho fatto due volte ma vaffanchilo grazie chiunque tu sia stato mi ha regalato un helmet imita quella di real time che cambia il look alle persone insomma il il omosessuale quello con quella malattia no dai scherzo non mi interessa niente comunque quello un po' affeminato è la parola giusta insomma c'è quello affeminato e lì si chiama tipo Carla solo che ne... eeeh oh e ora cosa mi spari cazzone super abbiamo un infinitico strano caccia caccia c'è un omelassi c'è un omelassi me lo ricordavo originati originati non mi serviti perché sono così cretino c'è un omelassi c'è un omelassi c'è un omelassi perchè mi è uscito ad avere avare così c'è un omelassi c'è un omelassi c'è un omelassi a parte gli scherzi c'è un omelassi perché io adesso ti apro da sotto bevilo tutto mi libero di queste di questi bricks un omelassi in the wall e ti spacco l'anus per non dire parolacce abbiamo un breaking un efficiency un ti spacco l'anus ti spacco l'anus 2 3 non capisco perché non cadono i blocchi sarà quanto apposta spero anche perché questo server non l'ho mai visto laggare e ci sono circa 1400 persone connesse vi dico solo questo ma quanto azzo è salito mi metto in posizione shift così non mi trovo da giusto per fammi idea quanto minchia ma va a cacare ti fotto io oddio siamo arrivati ciao ciao cazzone con tanto amore potete controllare l'ora perché mi sa che devo chiudere anche se mancano 3 minuti forse ce la posso ancora fare ma si ma facciamo una bella puntata probabilmente uscirà questo però ne sono sicuro anche perché avevo registrato una puntata di pwills si niente niente dai il tempo è finito quindi allora se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi e condividete mi trovate sempre su twitter google plus e sul mio sito spica98.x10.mx tra poco anche su mobile come vi ho già detto mille volte e niente il video è finito ciao a tutti a